Seppur con un numero legale risicato, il Consiglio Comunale di Tre Castagni ha approvato ieri sera le aliquote di Tasi e Imo e l'addizionale IRPEF. Su Imo e IRPEF le cifre restano le medesime del 2014, mentre per quanto riguarda la Tasi, la tassa sui servizi indivisibili, l'aliquota passa dal 2,2 al 2 per mille. Per il civico consesso di Tre Castagni però non è ancora tempo di vacanze perché c'è da completare il capitolo IUC, l'imposta unica comunale. Lunedì alle 16.30 infatti nuova seduta per approvare l'ultimo tassello mancante, cioè le aliquote della Tari, la tassa sui rifiuti. Anche qui previsto un leggero ritocco verso il basso, mentre il Consiglio Comunale tornerà poi a riunirsi mercoledì 5 agosto per l'approvazione del conto consuntivo 2014.